Questo è iPhone 4S, con iCloud. Ora, se scarichi un'app al volo, è lì quando arrivi a casa. Se fai una modifica mentre vai al lavoro, quando arrivi è lì che ti aspetta. Metti un segnalibro qui, ed eccolo di là. Adesso, le cose che fai sul tuo telefono sono quasi ovunque vuoi, automaticamente. iCloud, sul più sorprendente iPhone di sempre. Grazie a tutti.